Presentato il logo per Piemonte Regione Europea dello Sport 2022. Il titolo, assegnato da Access Europe, prevede una lunga serie di iniziative di promozione sportiva che interesseranno capillarmente la regione. Per rappresentare al meglio il fitto calendario di eventi, è stato scelto una sagoma bianca del Piemonte che si staglia su uno sfondo a pennellate multicolor. Parallelamente, è online anche il portale www.piemontesport.org, un sito in quattro lingue che rappresenta un collettore di informazioni e dati che arrivano dal territorio nell'ambito dello sport, gare ed eventi collaterali. Il sito sarà composto da tre sezioni, uno con i grandi eventi sportivi, ricercabili per tipo di sport o per località, uno con approfondimenti sulla cultura dello sport e una galleria mediatica che raggruppa video promozionali, foto e locandina. In solo due giorni sono già 150 gli eventi caricati sul portale. Ci aspettiamo un grande coinvolgimento sia di pubblico straniero che verrà in Piemonte per vedere i grandi eventi internazionali organizzati dalle federazioni, ma un grande coinvolgimento di piemontesi che avranno la possibilità all'interno dei loro comuni di fare attività fisica, di fare sport e conoscere nuove discipline che finora magari non hanno mai avuto l'opportunità di incontrare. Un anno da protagonista, il 2022 per il Piemonte, che ha intenzione di sfruttare al massimo questa importante vetrina internazionale. Vogliamo diventare un esempio per chi verrà dopo di noi, perché qualcuno nel 2023 riceverà il nostro testimone, ma dobbiamo essere consapevoli che vogliamo lasciare sia a livello umano, dei valori, i valori dello sport, quelli dell'inclusione, quello dell'abbattimento delle barriere, quello dell'unità, ma soprattutto quello dello stare insieme e della convivenza civile. E poi vogliamo dimostrare a tutto il Paese che il Piemonte c'è e c'è più forte che mai.